Volevo anche esprimermi in merito a questo emendamento 40 che a prescindere dal fatto che sia stato riformulato trovo comunque rispettoso il fatto di aver riproposto, di aver provato a riproporre il primo tratto della TOEM perché qui se nessuno faceva clamore questo è il primo tratto della TOEM. Quando abbiamo fatto audizioni, commissioni, siamo andati avanti per tanto tempo, l'abbiamo stralciata e adesso la ritroviamo un pezzettino. Primo, secondo abbiamo detto che toglievate l'allegato 3 eccetera eccetera con tutto il segno dei bolli che qual è la TOEM, quindi se non doveva essere la TOEM mi spiegate perché c'è il tracciato della TOEM, qui non ha presa in giro. Secondo, anche la riformulazione non può essere accettabile perché deve essere aggiunto eventualmente solo, solo l'ammodernamento della SP40, solo perché se no, scusate se non mi fido, se no è l'anticamera per fare la TOEM e allora non facciamo le commissioni. Cioè se ci prendete in giro e pensate davvero di poterci prendere in giro con questi giochetti, fatelo, sui territori non sono già felici, sono già tutti in allarme.